Benvenuti sul canale Robo di Megalopoli, il canale che vi fa vedere i robot prima di tutti quanti, gli altri canali italiani quando fate ancora in tempo a comprare non dovete prenderlo da un rivenditore che vi chiede quattro volte il prezzo. Oggi recensiamo il Galliant della 3.0 appartenente alla linea RoboDo ridisegnata da Kevin Sau che è l'head of design di 3.0. Adesso prima di andare avanti fatemi dare qualche informazione di servizio. Appena raggiungeremo i 500 iscritti darò via il SciBuster, modellino waterizzato colorato da me e ve lo invio a casa quindi non vi preoccupate. In più, dato che l'ultimo video non l'ha visto nessuno, ripeto in questo, mi raccomando mettete like e sottoscrivete perché se dovessimo raggiungere i 500 iscritti prima di Natale faccio un bel video su dove comprare i vostri robot al prezzo migliore possibile. Ovviamente alcune di le informazioni che farò in questo video sono super conosciute, specialmente se siete dei frequentatori di Gokin, del forum di Gokin o siete molto schillati, altre di queste sono certo che non le avete mai sentite. In più vi do una mano più o meno a ottimizzare quelle che sono le spese di spedizione e quant'altro. Allora, prima di iniziare effettivamente con quella che è la recensione, ci tengo a dire che questo è un robot dal prezzo in fascia media, quindi tra i 100 e 300 euro. In questo caso è costato più o meno 200 euro, può essere ancora prenotato, quindi se vi piace da questa recensione potete ancora prenderlo. Evitate di farvi fregare dagli scalper che ve lo venderanno 300-340 euro, assolutamente no. Però si dovrebbe riuscire ancora a trovare al suo posto, al suo prezzo, adesso. Adesso iniziamo la recensione di quello che secondo me, ve lo dico in anteprima, prima della recensione, sarà il robot dell'anno in questa fascia di prezzo. Abbiamo cambiato anche quelli che sono effettivamente i metri di giudizio perché nessuno capiva se dicevo fascia media, bassa, alta, pensava si parlasse di qualità, mentre invece era semplicemente il prezzo. Quindi alla fine della recensione avremo una checklist, quindi una lista, nel quale vediamo tutto quello che questo robot può fare e quanti di questi punti riesci a prendere e portare a casa. La scatola, come potete vedere, è molto grossa, sono 50 cm, si apre a libretto, c'è una finestra assolutamente inutile perché poi il robot è coperto da plastichina, quindi mi chiedo come mai lo facciano. C'è questo stile medio e valeggiante su tutto quanto il robot, del quale c'è un anime che però non ne sono nulla, se non che è stile medio e valeggiante. Vediamo sul retro alcuni shot molto molto editati di quello che sono il robot, le trasformazioni e un action pose. Come potete vedere colomino Lego, scatola gigantesca. Adesso che abbiamo finito di vedere la scatola, procediamo con quelli che sono gli accessori. Adesso, come potete vedere immediatamente da questa schermata, gli accessori ce ne sono abbastanza, ma c'è anche qualcosa che manca immediatamente, ne parleremo dopo. Vediamo che c'è un manuale istruzioni in bianco e nero, molto preciso, che fa vedere tutto quello che c'è dentro, però non è a colori e vabbè fa niente. Comunque per il prezzo è ok. Potete vedere immediatamente che ci sono vari armi, alcune più particolari di altre. Vedete subito subito questa spada. Allora, questa è la spada che a me ricorda Soul Calibur Ivy, che è una specie di spada frusta, molto bella, rigida. Può solo essere spostati per tenere pose action, tutta quanta colorata con dei diversi colori metallici. Non vedo un hub marks, quindi c'è decisamente più cura rispetto a quello che era stato il Dunkuga. È molto lunga, ragazzi, andiamo più o meno sui 50 cm di spada. Fate che una mia spanna sono 25 cm al millimetro. Adesso vediamo questa altra spada, anche questa molto leggera, colorata in maniera precisa, sempre molto stile heavy metal, nel senso molto medievaleggiante, molto rozza, senza tutti quanti frivoleggiamenti che possono avere i Gundam. Per fare un esempio, questo è un tubicino che si usa durante la trasformazione, colorato anche questo. Questo è in gommina, ma non ci interessa, perché a conti fatti deve essere abbastanza elastico. Vediamo tutte le manine in plastica rigida. Allora, queste non sono in gommina, come quelle del Getter, della CCS Toys, però la plastica comunque si comprime e agganciare gli snodi fa piangere. Quindi sono colorate, sono fatte bene, però, ragazzi, riscaldatele con l'acqua calda, che è una cosa che non sopporto, cioè si devono inventare un altro sistema. Ok? Questi sono dei pezzi sostitutivi per l'armatura di quello che è il robot quando si trasforma in quella modalità che io chiamo gambe con missile agganciato sopra, molto facile da estrarre, colorate, waterizzate come tutto quanto il resto del robot per far vedere alla fine quello che è l'usura. Ragazzi, questo qui è un robot completamente colorato e colorato meglio del Dunkuga. Al Dunkuga ci sono alcuni pezzi dove non si capisce se è stato colorato o meno, questo è colorato da capo ai piedi. Vediamo questo splendido scudo, anche questo colorato, pannellizzato, waterizzato in maniera un pochettino più leggera, secondo me qui avrebbero potuto andare con la mano più pesante, però in ottica industriale non è facilissimo. Colorato e pannellizzato anche dietro, si apprezza sempre questa attenzione al dettaglio. Potete vedere che ha questa specie di scompartimento che si apre, dal quale è possibile incastrare il cannone dentro per una delle trasformazioni, comunque scudo leggero ottimo. Cannone laterale per quello che è Galliant, estrazione facile, colorato anche questo, due colori di metallizzato e mi rendo conto che dalle riprese non si riesce a vedere particolarmente bene. Ragazzi, ci sono le simline, ma le simline possono essere rimosse soltanto dai modellisti, onestamente non c'è il tempo e non a questo livello di prezzo, quindi si vedono. Mega cannone gigantesco, molto leggero, tre colori diversi di metallici, le manichette si muovono, leggero per fortuna, però sembra che ci sia qualcosa di pesante dentro, non ho capito se è qualcosa di metallo per bilanciarlo oppure no. Comunque metallo al tatto non ce n'è per fortuna, se no gli snodi ci salutavano subito. Ancora una volta provo a farvi vedere un pochettino quel metallizzato, ma dalla telecamera non si vede. Comunque tutto quanto colorato, senza non marks degni di nota. Possiamo vedere che dagli accessori manca una basetta espositiva che mi pare ci fosse all'interno del Dancuga, ma va bene lo stesso. C'è ci sono tantissimi accessori e vanno bene così. Adesso andiamo a vedere quello che è il robot. Allora ragazzi, un istante che mi sta caricando la pagina, vedete che questo è un robot molto alto, è anche abbastanza pesante, pesa 560 grammi, è alto 24 cm e mezzo ed è un robot imponente per quello che è il design. Io devo dire la verità, quando gli facevano le foto degli shot ero lì per cancellare il prodotto perché sembrava avesse le spalle spioenti, in realtà è possibile manipolare quelli che sono gli spallacci. Comunque in mano dà immediatamente una sensazione di qualità, anche se il peso è più bilanciato verso le gambe, poi andiamo a vedere snodi e quant'altro. Di metallo ce n'è, è concentrato verso la parte bassa, un baricentro che gli permette di essere molto equilibrato. All'inizio ha gli snodi un pochettino duri, quindi sembra che non sia bilanciato, ma una volta per averci giocato per due secondi coi piedi poi rimane super stabilissimo, anche perché ha gamboni e piedoni. Comunque potete vedere, e ve lo ricordo, questo, ve lo ricordo e se non ve l'ho detto ve lo dico per la prima volta, questo è un combinabile trasformabile e non lo direste mai a vederlo così. Ed effettivamente è solidissimo, dà un'impressione da Soul of Chogoki in vecchia maniera, soltanto con questa colorizzazione, questo weathering fatto sopra in maniera, fatto in maniera superiore rispetto al lavoro che era stato fatto su Dunkuga e completamente colorato senza alcun dubbio su tutte quante le sue parti, come potete vedere gira 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 gira, il girello non si è rotto sfortunatamente, però potete vedere un pezzo super solido. Adesso che vi ho fatto vedere brevemente d'insieme andiamo a vedere quelli che sono tutti quanti gli snodi e poi vediamo le trasformazioni. Vediamo le trasformazioni, allora iniziamo subito con quelli che sono gli snodi della testa. Allora snodo su doppio ball peg, quindi all'altezza del collo e poi all'altezza della testa, anche se quello del collo è difficile da muovere perché è un pochettino rigido ragazzi, però vedete che adesso riesco più o meno a farlo muovere, ma non vi preoccupate, lì è semplicemente prenderci la mano e poi uno riesce a far muovere tutto quanto. Poi vediamo su quello che è la manipolo, vediamo se riesce a fare il sino da una parte all'altra e il tic toc, più o meno riesce a fare quasi tutto quanto, però già l'articolazione lì, ottima, l'articolazione degli spallacci che si muovono, in tutte le foto lo tengono spioventi perché nel cartone effettivamente alle spalle un po' spioventi, però se non vi piace ci sta. Vedete le braccia salgono tranquillamente sopra l'altezza delle spalle, quindi perfetto da questo punto di vista. C'è un bicep swivel che è la possibilità di muovere il braccio all'altezza del bicipite, però lì si è un po' limitato da quelli che sono i spillacci, ma va benissimo così. Doppio snodo su quello che è il gomito, però anche questo sfortunatamente è un pochettino bloccato da quello che è l'armatura, niente di problemi. Snodo sugli avambracci, quindi perfetto. Snodo sulla mano e c'è come con quelli che sono i flamethrows, c'è quel polso che si può ritrarre un pochettino per dare l'inclinazione. Ab crunch dei campioni per potersi guardare la punta dei piedi, poi c'è la possibilità di girare intorno a quello che è la vita di parecchio prima di andare a colpire quella che è la catena. Comunque vedete che faccio un po' di fatica perché effettivamente i snodi sono abbastanza duri, però si dovrebbero smollare abbastanza bene. Per ora sono tutti quanti snodi a frizione. vedete butterfly joint sulle spalle, quindi la possibilità di chiudere le spalle davanti, non fortissima. E adesso andiamo a vedere, però c'è, andiamo a vedere quelle che sono le gambe. Spaccata la Van Damme con snodi che tengono senza nessunissimo problema. C'è non proprio spaccata la Van Damme, ma ci va pochissimo sotto. Possibilità di muovere avanti indietro con snodi che reggono se lo agitate bene bene. Comunque tutti quanti gli snodi sono solidissimi. Adesso c'è snodo. Allora, all'altezza del polpaccio c'è un pochettino, ma non è perfettissimo quello, però va benissimo. Snodo a ratchet su quello. Allora, doppio snodo sulla gamba sul ginocchio del quale uno dei due è a ratchet, quindi è a click per poterlo tenere molto in posizione action e non aver nessuna paura sul fatto che possa cadere. Su quello del piede c'è effettivamente il ball pack agganciato e poi possibilità di muovere, adesso mi pare, la punta del piede sì, ma non il tallone. Comunque ragazzi, dal punto di vista degli snodi, questo è quanto di meglio si possa avere. Ci sono, si può avere un pochettino di più, ma gli unici che fanno di più con gli snodi sono i Sentinel migliori e i flame toys. Dal punto di vista snodi, questo si mangia a qualunque altra cosa, ricordandosi anche che questo è un trasformabile, è un combiner, i pezzi non si staccano neanche alla lontana, davvero, come sapete su questo canale molto snodi, molti colori, snodi, questo si prende un voto, è un voto davvero alto, è un ottimo prodotto da questo punto di vista. Ad ora che abbiamo finito di vedere abbastanza lunghamente quelli che sono gli snodi, iniziamo a vedere quelle che sono le trasformazioni. Allora, prima lo trasformiamo in quello che penso che si chiami Big Falcon, ovvero Falco Grande. Allora, come trasformazione è molto semplice, ricordo molto quello che è il Gear Walk di Macross, in realtà può essere piegato molto più vicino per sembrare più un aereo, però in quel punto non rimane più bilanciato, da qui mi fa pensare ragazzi, la basetta dovete metterla per chi lo vuole esporre così. Sì, comunque trasformazione molto semplice, ci vogliono due minuti, si gira la testa, si allunga in due pezzi, molto veloce, molto agevole, nessun problema. Non so quanti vorranno tenerla in questa posizione perché a me fa abbastanza ridere, però già il fatto che l'abbiamo messa e che volendo questo si può compattare molto di più, per sembrare molto di più un'astronave, davvero fa rimpiangere un pochettino questa basetta espositiva, però vedete, è un'astronavina a forma di falco, molto carina, niente di eccezionale da scrivere a casa, ma va benissimo che lo faccia, e adesso andiamo su quelle che sono le due parti del combiner, quindi prima passiamo da Big Falcon a quello che è un'altra trasformazione e vediamo che lo facciamo diventare in Falcon, per cui la parte sopra del robot si sgancia e diventa conti fatti questa astronavina, molto carina, molto più portatile, che sembra un'astronave, certo le mani non si nascondono, ha quei retrorazzi dietro, allora sganciare le gambe è davvero dura perché per il fatto che il robot è così solido bisogna fare molta forza, attenti a non rompere il perno che c'è dietro, è resistente perché c'è il metallo, però comunque c'è anche della plastica, quindi attenzione, è un'astronavina molto carina, mannaggia il display stand che ci potevano aggiungere, comunque vedete questa si è angolata bene, non si vede troppo che è un robot, potete anche staccare le mani per farla sembrare più astronave di tutti quanti, sembra un falchetto per essere onesto, adesso andiamo a vedere l'ultima modalità che è quella che trovo essere la più simpatica di questo robot, allora che è la modalità, allora penso abbia un nome ma io la chiamo gambe con missile tra le gambe, si potrebbe essere tantissimo più volgari però vabbè manteniamola così, comunque è simpaticissima devo dire la verità, si agganciano le gambe si mette il fucile in mezzo, il casco e fa abbastanza contraerea, ci vogliono due minuti per farla, è molto simpatico che sia stata messa, insomma davvero mi chiedo chi si compri questo robot e poi lo sponga così, magari per gli amici che amano le doppie esposizioni questo può avere un senso, si scambiano alcuni pezzi, c'è un po' di stacca attacca, vediamo si vedete quel cavetto che vi dicevo in gomma, non interessa in gomma perché praticamente si deve allargare intorno alla gamba ed era difficile farlo fissa senza andare a rovinare la vernice, comunque vedete alla fine quelli che sono i due pezzi di combiner di questo robot che è un combinabile trasformabile a un prezzo di fascia media adesso ragazzi abbiamo fatto vedere, trasformazione molto semplice, mi raccomando solo attenti quando staccate le gambe, l'unico pezzo a stare attenti e adesso andiamo a vedere quelli che sono i nostri classici confronti allora ho provato a confrontarlo con qualche pezzo di 3.0 che avevo in giro per la casa e poi con qualche prodotto sulla stessa fascia di prezzo tra i 100 e i 300 euro che abbiamo visto prima che abbiamo visto durante l'anno qui abbiamo il Patlabor che mi pare costasse 133 dollari o una cosa del genere come potete vedere questo è molto più grosso e più imponente allora lo Shingheter sembra più grosso perché ha le ali agganciate ed è effettivamente un pochettino più grosso però tenuto in mano nonostante sia più leggero il RoboDo di 3.0 dà la stessa soluzione di impatto mentre con il Gatter vi dicevo ci sono dei problemi di colorazione secondo me questo non ne ha adesso lo confrontiamo con il Sentinel che costava una cinquantina di dollari in più fanno cose molto molto diverse tra le loro due vediamo un altro paio di robottini tanto perché tutti quanti si possano fare un pochettino un'idea di quanto cavolo se è grasso caspita l'ho fatto davvero vivongo ha uno dei miei preferiti questo qui il Diaclone era avuto il Convoy Nero un'altra recensione vista praticamente da nessuno sfortunatamente ed ora che abbiamo finalmente finito di vedere tutto quanto ah no c'è la comparazione col Sidebuster e vedete che avete rezzati forse questi due stanno bene quindi se comprate uno poi sperate che raggiungiamo il 500 così poi potete metterci vicino quest'altro se non siete dei coloratori adesso andiamo su quelle che sono le conclusioni ragazzi su questo canale prima si andava a parlare di robot di fascia entry media e alta ho deciso di rimuovere questa cosa perché chiaramente non era chiara e quello che ho fatto è compilato una lista di items che un robot può o non può avere e su questa lista un robot può prendere uno o due check mark uno se fa la cosa bene due se fa la roba a livelli eccezionali proprio eccezionali quindi saranno eccezioni come potete vedere a sinistra vediamo che la prima parte di questa lista parla di bilanciamento questo robot molto bilanciato parla di materiali c'è del metallo c'è della plastica dà una buona sensazione è molto snodato ha parecchi accessori ma non proprio tutti però va bene lo stesso le dimensioni sono buone per quello che viene pagato il prezzo e quindi vediamo che prende un check mark su tutti quanti il secondo si prenderebbe soltanto in casi davvero eccezionali davvero più un unico che altro e poi andiamo sulla seconda parte che è la lista nel quale ci sono delle altre cose questo è un robot che si trasforma che si combina e compresenza cosa intendiamo compresenza? se una volta che è messo nella nostra bacheca sulla nostra mensola se ci accorgiamo che c'è in questo caso ragazzi sicuro ve ne accorgete uno perché è un prodotto waterizzato due per le dimensioni e il buon design il fatto che abbia tutta questa presenza può anche essere un male volendo perché la maggior parte dei robot che sono comprati in DICAS anzi il 99.9% non sono waterizzati però se volete avere qualcosa che attira l'attenzione proprio perché è diverso e comunque un prodotto di altissima qualità straraccomandato questo prodotto che vi dirò di più questo robot è il mio robot dell'anno per i prodotti con un prezzo tra i 100 e i 300 euro anche se mi arriveranno altri robot da qui alla fine dell'anno vi assicuro che non riusciranno a battere questo qua perché conosco le case produttrici che mi stanno per inviare la roba questo onestamente tra materiali, posizione, prezzo, gimmick e tutto quanto è il mio robot dell'anno ragazzi completamente colorato completamente snodato ce n'è proprio un po' per tutti quanti gli unici per il quale probabilmente non è per chi vuole una collezione di modelli tutti quanti colorati nella stessa maniera lucida ma se vi posso raccomandare una sola cosa da comprare quest'anno perché siete a budget molto ridotto e non volete investire in queste cose comprate questo è ottimo vi assicuro che non ve ne pentirete è davvero davvero superiore a Vancouver e mi ha fatto risperare in 3-0 che dopo Dunkuga mi aveva lasciato un po' deluso invece questo fa venire anche voglia di andare a ordinare l'Ideon della 3-0X dai robot di Megalopoli e tutto quanto se avete qualche domanda mi raccomando lasciatela sotto iscrivetevi ciao a tutti quanti e buon fine novembre alla prossima